Corto Dorico è un festival di cortometraggi che quest'anno è giunto alla sua nonna edizione. Noi abbiamo sempre privilegiato il cinema di impegno civile, il cinema di impegno sociale. Il contributo di Corto Dorico alla società civile io credo che sia duplice. Il primo è che sicuramente per la comunità degli adulti la possibilità di avere dei cortometraggi o comunque dei prodotti difficilmente visibili in altre circostanze è sempre un valore aggiunto. Mi chiamo Prasant Cattaneo e sono un collaboratore del centro orientamento educativo COE che è un'associazione e un organismo di cooperazione internazionale. E' la terza volta che il COE, il Festival del Cinema Africano d'Asia, America e Latina di Milano che appunto è il festival che il COE organizza da 22 anni, partecipa a Corto Dorico ad Ancona. Questo incontro con gli studenti delle scuole della città è stato particolarmente stimolante. Porto Dorico è un'iniziativa a cui la Regione Marche tiene tantissimo. E' un evento straordinario per culturale sia per la città di Ancona che per la Regione Marche. Negli ultimi anni mi sono trovato a fare feed su processi migratori o con migranti e diciamo dal punto di vista produttivo, come al solito, la principale difficoltà del genere documentario è il reperimento di fondi. Generalmente si riesce a partire perché con organizzazioni non governative magari c'è un piccolo budget stanziato per il prodotto, per il documentario e poi i problemi chiaramente sono a livello distributivo. Questo vale per il cinema, tematica, sociale, ma anche in generale per gli autori di documentari italiani. Quindi bravi per la fotografia, per la scrittura, per la direzione della storia? Io volevo ringraziare Babel, chiaramente, la nostra simpaticissima amica che ci ha premiato. A proposito di premi, ce ne sono molti. I principali sono il premio cortodorico al miglior cortometraggio a tema libero che viene assegnato da una giuria di qualità. Il cinema, come tutte le forme d'arte, è sicuramente un mezzo di integrazione perché è un mezzo di comunicazione. Quando tra i popoli e le persone c'è comunicazione, sicuramente c'è integrazione. Nel nostro caso, oltre che con il cinema, insomma, avviene anche attraverso il cibo. BABELON FAST FOOD è, infatti, cortometraggio parla di cibo e integrazione. Quello che vive Mamadou, il personaggio di BABELON FAST FOOD, è quello che con me lo vivono tutti i giorni io. Nel senso che non vengo riconosciuto somalo dai somali per la mia mentalità, non vengo riconosciuto italiano per la carta. Il vero problema dell'integrazione non è la prima generazione di nuovi italiani, ma è la famiglia. Dal momento che la famiglia ha modo di relazionarsi con chi gli sta attorno, ha modo di potersi integrare più facilmente. Non ho mai percepito la diversità come un problema, ma come una risorsa. Io, la diversità che ho vissuto e che per me è una cosa importante, è il fatto di essere stato un figlio adottivo. Collaborando col COE mi sono reso conto che la diversità è un valore. Cosa mi ha spinto a occuparmi di tematiche sociali e in generale di immigrazione? Direi uno fra tutte l'idea che fare questo tipo di film significa lavorare con un gruppo di persone, condividere la tematica e svilupparla in senso creativo con loro, con chi generalmente lavora sul campo. Questa commistione tra persone, i contadini che lavorano alla terra, il marinaio che sarebbe il regista e arriva e decide di fare il suo film, questa alchimia, se funziona, può dare grandissime soddisfazioni, sia perché poi il film può essere usato a scopi sociali. L'integrazione è un tema molto complesso e difficile da affrontare. In Italia sono stati fatti grandi passi, in particolare nelle scuole, con l'educazione interculturale, con l'insegnamento della lingua straniera e con la cultura si sta facendo alcuni piccoli passi nelle biblioteche, nei comuni. Le associazioni stanno cercando di far conoscere altre culture per favore dell'integrazione. Comunicare lo sviluppo a mano attraverso il cinema, io penso che l'unico modo per farlo sia quello di fare buoni film. Non si può fermare all'idea che stai facendo un film di tante, appunto di promozione, di sviluppo, sullo sviluppo, eccetera, ma è una cosa che molto spesso succede, basta avere un tema forte e uno pensa che, beh, siccome si tratta di un'invermatica sociale, allora deve andare bene comunque.